Ciao Bannis, ieri Pavel Durov di Telegram ha annunciato che collaborerà con le autorità giudiziarie e per la prima volta fornirà gli indirizzi IP e i numeri di telefono degli utenti per risalirne all'identità. Ma che cosa cambia per il mondo cripto e soprattutto per la sua chain Tone? Andiamola a vedere subito. Come abbiamo visto quindi cambiamento significativo nelle politiche di Telegram, fino ad ora non aveva mai collaborato in questi termini con le autorità giudiziarie, ma il vento è cambiato e andiamo a vedere che cosa cambierà anche per la chain di Tone, visto che ci sono alcune preoccupazioni relative ad essa. Siamo qui sul loro sito ufficiali, Tone sarebbe la classe di The Open Network, è una blockchain layer 1 fondata nel 2018 dai fondatori di Telegram, i fratelli Durov. Nel 2018 appunto ci fu una ICO, una raccolta di fondi che raggiunse ben 1,7 miliardi di dollari prevalentemente da investitori russi, ma sul più bello arrivò la SEC a bloccare tutto il progetto che allora aveva il nome di Gram. A quel punto i fratelli Durov non ebbero altra scelta che quella di abbandonare lo sviluppo diretto della blockchain rendendo invece il suo codice open source. Ed è qui che arriviamo a Tone. Ma che cosa succederà in concreto alla sua chain alla luce di queste nuove normative relative a Telegram? Per aiutarci abbiamo il BitCat Research Report proprio sul Tone Ecosystem, sull'ecosistema di Tone e andiamo a vedere che cosa dice, se è il caso o meno di continuare ad investire su Tone o pensare di investire su Tone. Nonostante questi non siano consigli finanziari, ragazzi io vi do solo le notizie, stiamo facendo delle ricerche e poi ci regoleremo di conseguenza. Andiamo più nel concreto nel report dove in sostanza invita la rete di Tone alla detelegrammizzazione come leggiamo nel rapporto suggerisce che l'ecosistema Tone potrebbe dover prendere le distanze da Telegram a causa delle continue preoccupazioni normative associate al Messenger. Ma nonostante questi dubbi, queste incertezze, BitCat ritiene che Tone coin sarà destinata a salire nel prossimo mercato realzista, nella prossima Burran, superando addirittura Bitcoin e i suoi rendimenti. Il 2024 è stato un po' l'anno di Tone, soprattutto grazie alla rapida adozione delle mini-app di Telegram celebri come Notcoin e Hamster Combat e come vediamo da Defailama a luglio 2024 il valore del TVL, del totale bloccato nei vari progetti di Tone, ha raggiunto il picco di 776 milioni di dollari. Fu un'impennata clamorosa del più del 5000%, poi ci fu l'arresto di Pavel Durov, la moneta perse il 50% di TVL e attualmente ci troviamo intorno ai 420 milioni, non male direi. Come dicevamo, nonostante l'arresto di Durov il prezzo è sì sceso ma si è tenuto sostanzialmente in percentuali ancora gradevoli, lato pricing. Questo perché se andiamo sull'annuale vediamo un rendimento del 148% che è similare a quello di Bitcoin in cui siamo al 140%. E detto questo non mancano gli investimenti da parte dei grandi player, in questo caso proprio BitGet avvierà un investimento strategico di 30 milioni di dollari proprio nella blockchain del progetto e ha dichiarato che si aspetta di essere più coinvolta profondamente nella governanza e nei piani di sviluppo futuri di Tone Blockchain. E qui arriviamo proprio al post di ieri su Telegram, sul suo canale da parte di Pavel Durov che annuncia che appunto collaborerà con la giustizia e darà in mano ai richiedenti numeri telefono, ip address per raggiungere l'identità di colui che è responsabile insomma di vicende illegali sulla piattaforma mentre prima erano solo relative a problemi di antiterrorismo. In definitiva come abbiamo visto ragazzi la previsione di BitGet sul potenziale questa potenziale de-telegrammizzazione di Tone nell'arco del tutto il 2025 per arrivare fino al 2026 ed essere completamente staccata dovrebbe essere un processo che si avvierà a breve incentrando più investimenti su questa rete nonostante ci siano, saranno applicate regole e restrizioni più severe sull'app di Telegram. Detto questo voi che cosa ne pensate ragazzi? Ci sarà questa de-telegrammizzazione di Tone? Sarà staccato da Telegram? Che cosa pensate di fare con il suo token? Nonostante tutti gli investimenti potrebbero esserci problemi? fatemi sapere che cosa ne pensate ragazzi ne parliamo insieme qui sopra o nel prossimo episodio. Nel frattempo un saluto a Panoschi, ciao Bannis e alla prossima!